Salute la famiglia tutta al completo, soprattutto Livio Rial. Per voi, Cristina Chiaranello. Avrebbe dovuto. No, no, no. Io non posso dire, ma lei ha la carta di carta. Non voglio rivelare il trucco. Vabbè un progetto inizialmente a pubblicare e non volete volerlo. Ok, io mi scherzo. È indigi regionale? Non è vero. E io non lo so. Non ho messo la concetta sul quadretto. E' licenziata. Non aveva pensato il tuo marito. Non lo so. Devi togliere. E' un progetto. 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 Questo. E' un progetto. Il prossimo cantante è una nuova ferra. E' oggi da frutto. Oggi per il sicilio. E' una zene per il canto. Canta il quattro mori. E' un progetto. E' un progetto a sfera. E' un progetto al suo sesto. Un progetto al sesto del 1989. Canta vita dagli occhi blu. sul palco te battiamo tutto si sente l'ansia nell'audio è un altro beato per fare le note nel video c'è lui ah no sono scogati una cosa che fa in maniera rimaniamo qua ma c'è meno l'ansia ci cacchiamo come adesso mi depilano tu canti senza strada cioè lei ti passa il microfono col filo anche lei che lo fanno con filo non male senza strada ok continuo a prenderla scusa io ti passo davanti perché mi si asciuga la gola devo prendere la bocchina anche a me si asciuga la gola vai se mi fai si manca prima un buonissimo qua mi sono asciugati se no quel caso adesso se rimette se non mi viene non mi fai ma ti guardi se non ti viene non mi fai vieni da sotto no non mi fai non mi fai non mi fai cosa? non mi fai non mi fai ma si è francile mi fai non mi fai ma si sei stai morendo mi sbagliate stuose Sì, va bene, quindi c'è la parola di ordinario. Ho visto la pancia del progetto? Sì, ho cantato. La dinamica. La mia malità. Oh, già, ma c'è. Lui, di Della H, single, per il risultato di lui al modo che stiamo a gestare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.